La consigliera comunale di Francavilla Gabriella Corrado è la nuova Miss Adriatico. Francesca Sicignano, commentiamo questa finalissima tra tanta gente ma soprattutto con uno spettacolo di qualità assoluta. Da mamma di ex Miss Adriatico posso dire che l'evento di questa sera è stato altamente emozionante. Come dicevo prima, ho visto le ragazze che hanno un ottimo apportamento, hanno una propria individualità perché oggi non si guarda solo la bellezza, la fisicità ma si guarda anche l'intelligenza, la capabilità e il voler comunque raggiungere i propri sogni. E questa è la cosa più importante, ogni ragazza non deve mai abbassare lo sguardo, deve andare avanti per poter proseguire, per poter raggiungere i propri obiettivi di vita. Questo evento è stato veramente molto arricchente per la città, l'amministrazione si freggia di questo evento perché c'era molta gente, c'era il pubblico e il fatto che io mi sia cimentata in questa diretta, erano online circa 300 persone, quindi vuol dire che la città risponde positivamente a questi eventi. Ci avete arricchito di nuove emozioni e questo ci fa immensamente piacere. Eccola qui inquadrata, Francesca Sicignano, sorridente, finalmente rilassata. Commentiamo una nottata, una serata che ricorderai per tutta la vita. Innanzitutto è stata una bellissima esperienza, sia perché ho trovato delle amiche fantastiche, sia perché ho trovato una vera famiglia, sia partendo da te, da Roberta, da Maurizio e tutti quanti. E mi sento di dire solo una cosa, che seguire sempre i propri sogni e il proprio istinto. Quello che si vuole in un momento si segue. Che sogna di fare Francesca Sicignano nella vita? Ecco, il mio sogno, sicuramente questo sarà un hobby, ma il mio sogno è quello di poter diventare un medico. Il successo di questa sera a chi lo vuoi dedicare? Principalmente a mia mamma e soprattutto al mio angelo che mi guarda da su. Un bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.